... Oggi abbiamo scelto come sede la nostra protesta l'ufficio tecnico del 13esimo municipio a Ostia La nostra protesta consiste nel sensibilizzare la ministrazione costana, cioè il sindaco Gianni Alemanno contro la condizione degli uffici tecnici a Roma per garantire trasparenza e imparzialità del risparmio delle funzioni di istituto come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana noi chiediamo alla nostra richiesta del trasferimento periodico da un municipio all'altro ogni tre anni dei dipendenti della Polizia Municipale cioè vigili urbani e appartenenti degli uffici tecnici territoriali per garantire appunto, ripeto, il principio di trasparenza e imparzialità di risparmio delle funzioni abbiamo scelto come simbolo territoriale della nostra protesta l'articolo di Ostia il 13esimo municipio perché le nostre segnalazioni di cittadinanza sono più veloce appunto da parte dei cittadini di questo municipio di questo territorio e abbiamo un motivo di credere appunto che il fenomeno sia in qualche modo presente chiaramente la nostra battaglia si rivolge a quelle mele marce che si annidano di questi uffici appunto dalla Polizia Municipale e degli uffici tecnici per quelle poche mele marce però vanno in ufficiale la buona immagine di tutto il corpo della Polizia Municipale e del ripetendo appunto degli uffici tecnici comunali di questi comparti lavorativi e perciò noi non possiamo prescindere da questa soluzione per poter garantire appunto la liceità nell'esplodamento delle proprie funzioni di questi comparti professionali e questa garanzia della tutela dei cittadini perciò dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge per garantire, preservare i cittadini stessi dal pericolo di omissioni o appunti di ufficio e non siamo non certo a dirlo è la cronaca, la cronaca che spesso ci rimanda problemi di questo tipo, fenomeni di questo tipo noi chiediamo, ripeto, il trasferimento periodico ogni tre anni da un principio all'altro trasferimento intervice principale dei dipendenti di uffici tecnici e dei vincini urbani questa è una nostra battaglia davanti a un giorno e un anno e mezzo stiamo protestando contro il silenzio il posto opposto a noi alle nostre teste dal sindaco Gianni Alemanno che aveva demandato la questione all'assessore al personale Enrico Cavallari che però, dopo esser stati ricevuti appunto dal capo della sua segreteria ha opposto sempre questo silenzio perciò contro il silenzio delle istituzioni noi continueremo le nostre proteste che abbiamo deciso di andare avanti con questa nostra protesta lo faremo fino a quando l'amministrazione comunale non aprirà un tavolo di concertazione perciò noi li terremo responsabili appunto il sindaco Gianni Alemanno in tutta la giunta comunale quindi responsabili politicamente eventuali abreati di questo tipo che verranno perpetrati ai danni alla pubblica amministrazione ai danni dei cittadini dipendenti oppure di questi comparti territoriali chiediamo al sindaco Gianni Alemanno di incontrarci, di ascoltarci su questa cosa abbiamo già ingassato diverse opinioni positive in merito a questo per esempio la parte del presidente del senso del municipio Giacomo Gianni il presidente invece del municipio Sandro Medici dal vice comandante generale che a nome del comandante generale Angelo Giuliani il vice comandante Diego Porta aveva detto che ci aveva assicurato che per quanto riguarda loro una situazione del genere poteva essere condivisibile magari per quadranti territoriali per quanto riguarda noi non si può prescindere da questa soluzione per poter garantire finalmente la salvaguardia appunto anche e soprattutto del corpo del corpo dei polizioni militari e del pericolo perché tutti coloro i quali sono impegnati a fare il proprio dovere di una pregazione e consenso sicuramente delle istituzioni e non è possibile che questo diciamo che il lavoro di queste persone della maggior parte appunto di appartenenti a questi comparti lavorativi venga inficiato e messo in discussione da quelle poche mele marce che si lasciano andare a fenomeni incorruptene perciò corruzione e concussione omissioni da tirofficio e illeciti di vario tipo